l'hai mandata. Perciò ti ringraziamo e chiedo io soprattutto la tua guida, Spirito Santo, e ti chiediamo, Spirito Santo, di essere qui con noi e di rivelarci la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, anche l'anno scorso ho realizzato che ho predicato io l'ultimo culto dell'anno e il titolo era ricordare, ringraziare e lodare, se non sbaglio. Sono andata a controllare. Quest'anno invece sta dimenticando le cose che stanno dietro. Amen. Tutto il contrario, apparentemente. Amen. Bene, voglio dirvi da cosa è nata questa riflessione. Vabbè, intanto lunedì, quando eravamo chi per chi era la preghiera, abbiamo fatto anche, Austin ha condotto la preghiera proprio per anche lasciare alle spalle delle zavorre dell'anno passato. È stata un po' condotta in una delle cose che sono state fatte e questo mi ha ispirato. E poi anche una cosa che ho letto, che io poi ho riadattato, su Facebook vi dico, ogni tanto ci vado. Sappiate che quando vedete il mio nome è mio marito in realtà che si muove sotto mentite spoglie, perché è lui che condivide, che legge, eccetera. Però io leggo magari e questa riflessione mi ha colpito, l'ho un pochino riadattata e adesso ve la faccio vedere perché parte un po' da questa, la predicazione. Vai Gabri. Allora, lo leggo. È il momento in cui il passato entra, siamo a fine anno, giusto? Diciamo che le date non contano, diciamo che le feste sono feste, qualcuno dice non vedo l'ora che passi, non sono sempre le stesse cose, eccetera, eccetera. Però poi in realtà non è così perché poi le date contano in qualche modo e in questi momenti io vedo spesso visi tristi o molto allegri, no? Però in generale sono tempi di bilanci per cui rilego questa cosa. Il momento in cui il passato entra prepotentemente nella vita delle persone e si accomoda a metà tra te e i festeggiamenti. E in quel mare di lucette intermittenti si diverte ad accendere e a spegnere mancanze e ricordi, illuminando soprattutto i vuoti e le assenze. Non importa quanto tu sia diventato forte o indifferente, riesce sempre a trovare il punto debole nella corazza che ti sei costruita e lì colpisce riaprendo antiche ferite che ogni anno cominciano a bruciare. A me ha colpito, era un pochino, parlava delle festività, l'ho un attimo riadattato. Io penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo riflettere perché anche se diciamo che non contano le date, anche se ogni giorno è un nuovo inizio per noi in Cristo Gesù, queste date sono momenti in cui tante volte nelle festività aumenta il numero dei suicidi, la depressione. Quando c'è una persona, quando si è persa una persona cara nelle festività ci ricordiamo sempre quel posto vuoto a tavola, è vero o no? Abbiamo, magari ogni anno abbiamo aspettato delle risposte e diciamo quest'anno sarà diverso e poi arriviamo a fine anno e apparentemente le cose non sono cambiate e questo ci porta a tristezza. E quindi questa mia riflessione è nata un po' da questo. Vi dicevo che è un periodo particolare, c'è il Natale e c'è il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. Sono giorni in cui ci si ritrova in famiglia. Scusate, io leggo per evitare di propinarvi le 50.000 parole che devo dire ogni giorno rispetto alle 5.000 che dice mio marito. Io ho messo giù così, almeno non dico troppe cose e dico come mi attengo a quello che avevo deciso di dire. Deciso o che spero che sia stato lo Spirito Santo a decidere per me di dire. Sono giorni in cui ci si ritrova in famiglia e sono anche giorni in cui può accadere che quella stabilità che era un po' anche un pochino fittizia non proprio fondata sul Signore subisca una scossa. Il nostro malgrado è un tempo di bilanci. Anche se diciamo di non dare peso alle date questo è quasi automatico nella nostra mente. Se siamo sinceri avviene. Abbiamo anche un tempo di nuovi propositi. Per esempio noi a gennaio ci metteremo a dieta. Non dal primo ma dal sette dopo le feste. È un tempo così che si dicono queste cose. Magari ci riproponiamo anche non solo queste cose banali ma anche di dire voglio un tempo migliore di comunione col Signore, pregherò di più, farò di più. Insomma, tempo di bilanci. Tempo di nuovi propositi e il tempo in cui realizziamo più chiaramente lo scoraggiamento o la speranza. Proprio come dicevo prima. A volte diciamo l'anno scorso ho detto questo sarà un anno diverso, farò così, e poi ci fermiamo e magari certe cose non sono avvenute. Certe altre sono avvenute diversamente da come ce le aspettavamo. Certe altre invece sono avvenute. Quindi volentieri o non lenti bilanci li facciamo. E quindi più che mai abbiamo bisogno di coinvolgere il Signore in questo. A me in questi nostri momenti di festività, di fine anno. Come diceva quella frase, si chiede un attimo di... Vabbè, oppure ce la ricordiamo. Cioè non importa quanto tu sia diventato forte o indifferente, riesce sempre a trovare il punto debole nella corazza che ti sei costruita e lì colpisce. Riaprendo antiche ferite che ogni anno cominciano a bruciare. E questo è una cartina al tornasole. Come si dice, quando noi facciamo la prova, se siamo in quel momento e certe vecchie ferite ricominciano a bruciare, vuol dire che forse non l'abbiamo completamente affidata al Signore. e che questa forza, questa corazza, ce la siamo costruita noi e non è stato col Signore che abbiamo ritrovato la nostra stabilità. A me? Siete con me? Succede. Succede. Quindi dobbiamo riflettere su questo. È vero? Però appunto, questo vuole essere propositivo. Stavo facendo un piccolo così, un piccolo spaccato, una piccola panoramica di questo. Allora, Proverbi 13, 12. Arriva. Sta arrivando. È un versetto che mi ha sempre fatto riflettere. No, penso che sia. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Amplificato sulla BLB che tutti potete scaricarvi, dice la speranza o aspettativa insoddisfatta differita prolungata cioè l'aspettativa di qualcosa che ritarda praticamente fa languire cioè indebolisce ferisce e fa ammalare il nostro essere interiore. Quando noi siamo in attesa di una risposta non ci sentiamo così bene diciamocelo umanamente parlando ma il desiderio realizzato è un albero di vita cioè di risveglio di rinfresco e di felicità. quindi vediamo proprio come sia anche nella parola di Dio ci fa vedere come sia naturale scoraggiarsi come sia naturale abbattersi quando le cose che aspettiamo non succedono ma come sia soprannaturale invece avere fede e andare avanti con forza quindi è naturale che noi siamo scoraggiati quando le cose non avvengono cioè siamo in linea con la nostra natura umana ma è soprannaturale continuare a restare fermi in fede e però abbiamo bisogno di affrontare queste cose a volte abbiamo dei meccanismi di sopravvivenza nel nostro essere umani cioè quindi tipo la rimozione la sublimazione eccetera eccetera poi c'è chi che ha studiato psicologia può fare meglio di me però sono meccanismi di sopravvivenza ma a volte poi ci fermiamo guardiamo facciamo bilanci e vediamo che in realtà questa pace magari che pensavamo di avere questo equilibrio che pensavamo di avere in certi momenti viene meno perché abbiamo bisogno di rimettere tutto davanti al Signore semplicemente questa è la soluzione non c'è altro non farò altro che riesprimerlo ma questa è la soluzione abbiamo bisogno di Gesù amén dunque quindi vorrei un pochino insieme scoprire alcuni scomodi compagni che ci accompagnano e che ci zavorrano lo sappiamo quali sono però li rivediamo insieme per potercene liberare perché quando realizziamo queste cose qui noi possiamo poi liberarcene e continuare la nostra corsa amén entrare in questo nuovo tempo vedete in questo nuovo tempo non è solo questo nuovo anno 2020 ho detto che quando sono date magari ci viene più facile fare dei così dei bilanci ma è proprio un nuovo tempo che il Signore sta preparando e tanti di noi lo sentono spiritualmente come un come un friccicore come si dice sentiamo che c'è qualcosa di diverso di accelerato di meraviglioso che il Signore sta facendo per tutta l'umanità sta tornando Gesù sta tornando sta preparando la sua sposa amén allora vediamo questi scomodi compagni allora punto 1 la paura e l'incredulità che spesso camminano a braccetto non vi faccio venire avanti in due per fare paura e incredulità però paura e incredulità incredulità e paura sono collegate versetto 29 Geremia 29 11 questo è il nostro antidoto infatti io so i pensieri che merito per voi dice il Signore pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza allora amplifichiamo io so i pensieri che medito per voi la parola so conosco dichiaro e vi faccio conoscere ok quindi non vuol dire che sono pensieri che il Signore dice io ce li ho ma tu arrangati è vero fidati ci dice anche di fidarci però lui ce li fa anche conoscere i pensieri che ha per noi pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza e vedete per esempio qua riflettevo no perché non dice pensieri di bene e non di male perché il contrario di male è bene non è pace eppure questa pace la parola è shalom quanti la conoscono quant'è shalom pace è riduttivo perché shalom significa molto di più significa completezza significa salvezza significa benessere significa salute significa pace significa tranquillità significa amicizia e significa stabilità abbiamo bisogno di essere stabili fondati sulla roccia e questo è un cammino comunque un percorso il Signore lo sa quindi a questo punto ha paura e incredulità l'antidoto è conoscere la volontà di Dio per noi quindi sapere anche che questo Natale che noi abbiamo festeggiato che anche se non era la data giusta abbiamo ricordato che i cieli si sono aperti per noi con Cristo Gesù i cieli si sono aperti lui ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù quindi questo dobbiamo ricordare abbiamo festeggiato chi ha buttato l'albero chi ha mangiato il panettone abbiamo brindato ma c'è qualcosa di profondo non è è attaccato abbiamo il Natale e abbiamo il nuovo anno allora noi abbiamo una speranza che è Cristo Gesù e l'abbiamo appena celebrato questo e dobbiamo ricordarci questo quindi lui è lo strumento per la nostra shalom quando lui è entrato nel mondo quando lui ha aperto i cieli per noi quando lui poi è stato crocifisso è risuscitato cioè lui è stato lo strumento per la nostra completezza e per tutto quello che vi ho letto io credo che sia meraviglioso lo sappiamo con la testa ma questo lo continuiamo a ripetere perché deve entrare nel nostro cuore amè? punto due altro compagno l'orgoglio è subdolo e obiettivamente poi tanti di noi me compresa non ammetteremo mai di avere orgoglio no? perché noi siamo le persone più umili del mondo ma quando vogliamo fare da sole quando pensiamo già di come dovrebbe succedere qualcosa noi aspettiamo una risposta e decidiamo che quella risposta dovrebbe avvenire in quel modo lì e così oppure quando cerchiamo di arrabattarci con le nostre forze siamo orgogliosi ok? è orgoglio e io voglio già lo dico ben per prima perché voglio riflettere su questo Isaia 55 8 9 questo è l'antidoto infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri nelle vostre vie sono le mie vie dice il Signore come i cieli sono alti al di sopra della terra così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri amplifichiamo allora i miei pensieri amplificato vuol dire i miei scopi e i miei piani Dio ha dei piani per me e per te amén ma non sono i nostri piani quindi i miei piani e i miei scopi le mie vie amplificato è strade direzioni modalità quindi facciamo un po' così i miei piani per te e le mie modalità per arrivare a questi piani non sono i tuoi piani e le tue modalità i miei di me Maurizia ma sono più alte e la parola più alte amplificate vuol dire più nobili e più ampie c'è un piano più allargato per ognuno di noi amén il Signore ha un proposito per ognuno di noi che non è 99 su 100 non è il proposito che abbiamo noi in mente sono più ed è più nobile più ampio di quello che possiamo avere noi in mente amén a questo punto l'antidoto è realizzare che se anche noi immaginiamo come dovrebbero andare le cose Dio ha qualcosa di meglio per noi e dobbiamo imparare indovinate un po' a fidarci di Lui per cui come abbiamo detto la fede è sopranaturale perché naturalmente noi siamo stati programmati per fare delle cose in un certo modo amén punto 3 altri due compagni che vanno di nuovo a braccetto e non so se mettere prima uno prima l'altro è lo scoraggiamento e l'autocommiserazione quando sono scoraggiata mi autocommisero quando sono quando mi autocommisero automaticamente mi scoraggio autocommiserazione sapete tutti no? di cosa parliamo oh povera me guarda nessuno mi ama abbastanza nessuno mi considera oh povera me ho questo problema e non riesco e usiamo cioè facciamo adesso amplifico poi cioè no spiego questa cosa qui l'autocommiserazione è terribile io veramente ne ho sofferto per tanto tempo e quando la riconosco cerco proprio di cacciarla via perché è quello che ci impedisce di reagire e di agire in fede quando noi cominciamo a piangerci addosso ragazzi non ce n'è dite con me non ce n'è se ci piangiamo addosso noi dobbiamo avere consapevolezza ma poi dobbiamo combattere perché il Signore ci ha dato tutte le armi per combattere per vincere lui ha già vinto la guerra ma noi abbiamo delle battaglie e quando iniziamo a piangerci addosso è difficile che non ci scoraggiamo ed è difficile che possiamo combattere le battaglie che ci sono riservate quindi Isaia 43 18 19 non ricordate più le cose passate non dobbiamo ricordare non considerate più le cose antiche ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare non la riconoscerete se io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiume nella steppa la cosa nuova il Signore la sta per fare amèn nella mia e nella tua vita il problema è che dobbiamo riconoscerla amèn quindi amplificato non ricordate più le cose vecchie non richiamatele alla mente questa è l'amplificazione vuol dire che se anche a volte noi ci stiamo a fate come sappiamo quando rimuginiamo le cose non richiamate più alla mente non registrate e non fate memoriali questo l'ho trovato nell'amplificazione a volte noi facciamo monumenti ai nostri problemi e poi andiamo lì e ci piangiamo sotto portando dei fiori ok noi facciamo un monumento ai nostri problemi alle cose del passato perché nessuno sa come sono ma perché tu non sai cosa ho sofferto ma sì è vero ma Dio lo sa ancora meglio di me di te e Dio vuole darci lo vuole per il nostro bene quindi lo ripeto non ricordate più le cose antiche quindi non richiamatele alla mente non le registrate non fate dei monumenti mettiamoli sotto i piedi amè perché in Cristo Gesù tutto è stato vinto io stabilisco dice sto per fare una cosa io aprirò una strada nel deserto io stabilisco una direzione e una modalità in ciò che è desolato il deserto è la cosa desolata addirittura si parlava di rifiuti di spazzatura nell'amplificazione quindi tutto quello che sembra uno sfacelo Dio darà una direzione amè lui aprirà qualcosa farà scorrere fiumi amè terzo antidoto quindi abbiamo detto che il primo la paura e l'incredulità era il conoscere la volontà di Dio per noi e avere fiducia in questo all'orgoglio era realizzare che Dio ha qualcosa di meglio per noi abbiamo visto i versetti spero che voi sicuramente li avrete scritti vi interrogerò poi in questa settimana e il terzo antidoto allo scoraggiamento e l'autocommiserazione è non continuare a guardare a ciò che è stato o non è stato ma guarda avanti a ciò che Dio vuole fare lo so che vi sto dicendo delle cose un po' scontate però guardate se veramente le mettessimo in pratica saremmo un popolo molto più vittorioso i pastori avrebbero meno consulenze da fare e tutti quanti saremmo molto più in vittoria amè perché tutti abbiamo bisogno di cambiare a partire da me e da mio marito amè quindi abbiamo detto che l'antidoto a questi compagni di scoraggiamento e autocommiserazione è non continuare a guardare ciò che è stato e non è stato ma guarda avanti a ciò che Dio vuole fare non cercare di farcela da solo riconosci il tuo bisogno di Gesù e lascia che Lui porti riposo il riposo e la tranquillità necessari a percorrere questo nuovo anno in vittoria amè lui vuole darci riposo lui vuole darci tranquillità lui vuole darci un anno di cose nuove e vittoriose non magari appunto secondo il nostro concetto di vittoria non magari secondo il nostro concetto di prosperità nostro ma secondo la sua parola e la sua volontà perché abbiamo detto che le sue piani sono più ampi le sue direzioni sono più alte delle nostre ma Lui ha un piano per ognuno di noi il problema è che noi ci dobbiamo credere e credere a che cosa? che Lui ha il meglio per noi anche quando non ci capiamo niente e mi è piaciuta questa riflessione l'essere umano è stato creato con un'intelligenza superiore al resto delle creature anche se a volte non sembra e poi si sprecano le battute sul fatto che gli animali sono più intelligenti non è vero un'intelligenza che progetta è quella che Dio ha dato all'uomo all'essere umano e chiaramente aveva dato tante altre competenze che poi con la caduta con il peccato in Eden abbiamo perso e che spiritualmente possiamo recuperare in Cristo Gesù ma questa intelligenza la vediamo già nei bambini questo mi ha colpito una riflessione che ho letto e quindi la voglio passare avete presente che sui tre anni quattro noi stiamo vivendo questo con Letizia nostra nipote ma qualunque bambino l'abbiamo vissuto con i figli la fase dei perché conoscete l'altra sera facevo addormentare mia nipote mentre la facevo addormentare sono scivolata dal divano una bella sederata per terra e abbiamo passato mezz'ora a parlare del perché io ero caduta per terra ma perché volevi farmi dormire ma perché io dovevo dormire ma perché allora ma perché qui ma come mai sei scivolata ma perché ti sei messa di qua a un certo punto di senso dormi non ne potevo più ma questa fase è considerata una tappa dell'intelligenza è proprio una tappa che i bambini devono avere è estenuante per i genitori e per chi gli sta intorno ma il fatto di farsi delle domande fa parte della nostra intelligenza il problema qual è? che noi spesso facciamo come i bambini e questi perché noi li continuiamo a chiedere al signore perché 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 mi è successo questo perché le cose non stanno andando avanti perché è andata così questa cosa perché 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 e spesso pensiamo che il nostro riposo e la nostra pace la troveremo quando avremo la risposta a quel perché ma non è così non è così non sempre adesso vi leggo questa bella frase perché non voglio alterarla perché noi non possiamo trovare riposo nel fatto di sapere tutto tutti i perché di quello che ci sta accadendo vi do una è una cattiva notizia non lo so per voi e per me no è buona perché tante volte non ci sono spiegazioni ci sono cose che rimarranno tante volte diciamo eh quando saremo con lui glielo chiederemo ma forse non ci importerà neanche di sapere la risposta quando saremo ci sono delle cose che veramente ci chiediamo e non ci riusciamo a spiegare però in realtà il riposo non lo troviamo nel trovare la risposta ai nostri perché il riposo non si trova nel cercare di capire ogni cosa ma nella fiducia in colui che capisce ogni cosa e che governa in gloria per il nostro bene lo voglio ripetere perché è veramente una cosa che mi ha toccato mentre leggevo mentre mi preparavo il riposo non si trova nel cercare di capire ogni cosa ma nella fiducia in colui che capisce ogni cosa e governa in gloria per il nostro bene amè credo che sia anche un tempo per dichiarare sempre di più la nostra resa al Signore per affrontare in vittoria questo anno che abbiamo davanti per alcuni sarà un'aspettativa gioiosa quante belle cose soprattutto i più giovani magari con un po' più di anni a volte abbiamo anche paura del nuovo anno oppure siamo delusi non ci aspettiamo più risposte chissà magari ci siamo aspettati risposte per anni queste cose non avvengono e allora quasi ci dà fastidio se qualcuno ci dice quest'anno sarà diverso non vuoi neanche sentirtelo dire non me lo dire che non mi voglio illudere ma invece noi dobbiamo non essere degli illusi avere fiducia e trovare quel riposo meraviglioso ora vi do la definizione di riposo mille fogli ve l'ho detto e intanto magari se il gruppo lode può venire così vi do già il segnale che siamo a buon punto ho parlato anche poco adesso tengo ancora un quarto d'ora a dire qualcosa che non c'entra niente così almeno scherzo riposo è qui abbiamo detto abbiamo bisogno di riposo e tranquillità c'è una bel detto che ogni tanto ce lo ripetiamo mio marito ed io me lo dico da sola lo dico ad alcuni quando facciamo qualche consulenza Dio esiste e non sei tu rilassati Dio esiste e non sei tu perciò rilassati perché è tutto nelle sue mani riposo è secondo il vocabolario la sospensione dell'attività quindi sospendi un'attività motivata dalla necessità di ristoro di forze fisiche e psichiche quando siamo proprio tilt abbiamo bisogno di riposo per ristorare le nostre forze mentali e fisiche ed è ottenibile con il sonno o con l'assumere una posizione di benefico rilassamento allora io ho un marito che quando è stanco praticamente si mette giù due o tre secondi mi parla e dorme già e in passato anche quando c'erano problemi una sua soluzione mentre io ero che devo parlare devo sfogarmi lui dormiva poi abbiamo trovato questo equilibrio grazie a Dio si chiama rimozione del problema non come Gesù in la barca tanti uomini lo fanno non è solo e ci facciamo quattro risate però poi dobbiamo trovare un equilibrio e poi veramente non è dormire per fuggire ai problemi ma trovare il nostro riposo in Cristo Gesù è diverso e tutti stiamo in crescita per trovare questo e secondo la Bibbia il riposo è restare tranquilli in una calma e paziente aspettativa il riposo parla di fede di sapere che se anche c'è la tempesta intorno io riposo il riposo parla di dire ok signore io non ci capisco niente ma so che tu lo farai amè amè e allora adesso ho bisogno di come ho detto di sei allora Rocco vi chiamo io Rocco vieni 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 Emiliano vieni Gabriele vieni Cristo grazie uno due tre sei persone ancora uno chi viene vieni Sergio è giusto che eravamo anche detto è solo per farvi visualizzare non devono fare niente adesso aspetta un po' tanto così ah no c'è stato 27 27 venite più in centro venite più in centro qua tutti qua non rompete l'ordine che avete alleluia allora vorrei che rimanesse rimanesse impresso questo quello che faccio questa scenettina no che non è mio uso ma allora cominciamo la parola riposo può essere un acronimo cioè le iniziali di altre parole ok ogni lettera l'iniziale di un'altra parola puoi iniziare a proiettarmelo Gabriele qui abbiamo una R ricorda la sua bontà si è parlato di gratitudine per avere riposo devi ricordare la sua bontà in mezzo alla tempesta quando Dio dà e quando Dio toglie ricordiamo la sua bontà amè per avere riposo I immergiti nella sua fedeltà se non conosciamo la sua parola le sue promesse se non le meditiamo non possiamo riposare perché non sappiamo a volte parliamo con le persone hai 80 fede ma che cosa hai fede ma se non sai cosa Dio ti vuole dare noi dobbiamo a volte noi abbiamo fede nella nostra fede ma non la nostra fede è basata sulla parola di Dio su quello che Dio è su quello che Lui ci promette amè e se non conosciamo la parola andiamo alla guerra in mutande ragazzi noi dobbiamo conoscere la parola di Dio perché le promesse di Dio sono immutabili e sono verità e quindi abbiamo bisogno di immergersi nella sua fedeltà di immergerci nella fedeltà di Dio meditando la sua parola e poi abbiamo una P parlagli del tuo bisogno abbi comunione con Lui invece invece di andare a destra manca parla a Lui prima di tutto non cercare soluzioni ma abbi comunione con Lui perché Lui è un Dio che è sempre pronto è un Padre Celeste meraviglioso che è sempre pronto ad ascoltare la tua voce amè e poi andiamo alla O offrici offrigli la tua lode e adorazione questo è un atto di fede prima è stato detto durante la lode quando tutto sembra andare male è facile lodare quando va tutto bene è facile lodare quando abbiamo avuto la risposta è facile lodare e adorarlo quando non abbiamo altro che oh Signore troppa gratitudine troppa riconoscenza perché ho avuto queste risposte ma in questo momento noi dobbiamo lodarlo e adorarlo sia che le risposte siano arrivate sia che non ci siano sia che siamo allegri sia che non lo siamo non solo in questo momento ogni giorno a me perché questo ci porterà a riposo e poi ancora la S scopri la sua calma venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo amè quando siamo ai suoi piedi quando andiamo da lui noi possiamo scoprire la sua calma la calma in mezzo alla tempesta lui dormiva in mezzo alla tempesta lui sapeva chi era da dove veniva cosa era stato chiamato a fare e dove stava andando e tu ed io sappiamo chi siamo da dove veniamo cosa stiamo stati chiamati a fare e dove stiamo andando lo sappiamo davvero perché questo ci permetterà di rimanere fermi c'è un proposito più alto nella mia e nella tua vita non è solo alzarci mangiare andare a lavorare magari divertirci un po' venire anche un po' qua a sederci va bene io credo che ognuno di voi sia venuto col cuore giusto ma c'è molto di più nella nostra vita amè e poi oh occupati del suo regno e questo cosa vuol dire alza gli occhi da te stesso lo dico a me non lo dico solo a voi alziamo gli occhi da noi stessi dai problemi dalle battaglie che abbiamo in questo momento ricordiamoci che la parola dice cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più guardate il diavolo cercherà di fermarci in tutti i modi e io vedo a volte in certe situazioni fratelli e sorelle che sono sempre piantati negli stessi problemi se tu non superi quello scoglio il diavolo ti continuerà a fare sapete quei avete mai visto quei pupazzetti che continuano a sbattere e tornano indietro e ci risbattono contro ok a volte io ho la sensazione l'ho avuto per la mia vita ma a volte lo vedo anche mentre faccio le consulenze e sembra crudo sembra un po' duro dire no tu devi reagire e non ti faccio pat pat sulla testa io ti dico alzati e combatti e che se tu sarai sempre fermato su quel problema continuerà a fermarti su quello io ve lo dico tutte le volte che devo muovermi per il Signore anche dai primi tempi se c'era un momento che uscivo di casa mio figlio vomitava quando era piccolo e arrivavano i parenti a trovarmi e c'era sempre un motivo per andare ad adorare il Signore se io non avessi deciso di andarci a volte mi sentivo male e io mi sono alzata e ho detto no io non mi faccio dominare da questo io mi alzo sto male vado lo stesso perché io voglio andare ad adorare il Signore io so e di man mano il Signore mi ha chiamato a fare altre cose io ricordo un giorno ho omitato tutta la notte e dovevo condurre la lode e suonare allora non avevamo questi meravigliosi gruppi di lode amplificati che si sono moltiplicati grazie anche all'impegno di mio figlio di mia nuora e allo Spirito Santo io ringrazio Dio per tutti questi ragazzi che sono stati preparati io non avrei avuto non avrei avuto le competenze per farlo ma il Signore per un tempo mi ha chiamato avevo il cuore quello si come ce l'hanno loro naturalmente io mi ricordo una mattina di Natale avevamo il culto ho vomitato tutto il tempo ho detto no io non mi faccio fermare io vado ho suonato l'ho dato ho adorato abbiamo finito il culto e sono arrivata a casa e ho ricominciato a vomitare vorrei dirvi che ero guarita no ho cominciato ma non mi sono fatta fermare e io vi incoraggio a fare questo perché poi non mi è mai più successo ma sapete che se quella cosa sarete sempre bloccati continuerà a bloccarvi su quella perché è il vostro punto debole ok noi allora dobbiamo occuparci del suo regno c'è una chiamata scoprila ma la scopri lavorando per lui amè non verrà un angelo a dirti ok è successo a Maria no è venuto è comparso un angelo e tu avrai il messia eccetera ma noi avremo delle avremo qualcosa dentro il cuore ma tu scopri sai Dio chiama persone che stanno lavorando non chiama persone che stanno aspettando che stanno aspettando la rivelazione dal cielo che cosa mi chiami a fare tu inizi a lavorare il Signore ti farà vedere ma c'è tanto bisogno ovunque c'è tanto bisogno basta guardarsi intorno c'è bisogno nella chiesa nella chiesa veniamo a fortificarci cioè siamo chiesa nel locale gli studi lo stare insieme ci fortifica ma intorno a noi ci sono tanti bisogni inizia a alzare gli occhi iniziamo a alzare gli occhi dei nostri bisogni e guardiamo i bisogni e il Signore si occuperà anche dei nostri bisogni amè e allora abbiamo detto riposo 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 riposi immergiti nel suo riposo amè e concludiamo con questo versetto che è in Filippesi 3 13 14 il desiderio più grande dell'Apostolo Paolo era conoscere sempre di più Gesù e sperimentare sempre di più la sua presenza grazie voi potete accomodarvi tenetevi pure la lettera ve la regalo fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù amè alziamoci in piedi ringraziamo il Signore perché Lui nella sua grazia e nella sua misericordia ha chiamato ognuno di noi per un proposito speciale quello che Dio chiama a fare te non lo posso fare io ognuno di noi è prezioso speciale e ha bisogno di realizzare che Dio grande abbiamo per andare incontro a questo nuovo anno con forza con gioia con aspettativa amè e con abbiamo detto con il riposo che viene dalla fede nel Dio grande meraviglioso che abbiamo non possiamo capire tutto non lo vogliamo neanche Signore ma vogliamo affidarci a Te che sei colui che capisce ogni cosa e le cui vie sono infinitamente più alte delle mie vie le Tue direzioni i Tuoi piani sono più nobili più ampi Signore e noi questa mattina insieme vogliamo darti la nostra adorazione Signore mentre realizziamo sempre di più chi Tu sei amè